E' no male che c'è una musica Sennò qua c'è Sennò qua c'è Sennò qua c'è Che c'è una musica Sennò qua c'è Sennò qua c'è Siamo partiti da questa macchina da ieri a Scama che lo wolontari in questa macchina ci stanno tutti questi giovani ragazzi volenterosi a darci una mano a rendere tutta l'aria in tutte le macchie che si scriva La linea secca, derivante principalmente dalla slavina di due anni fa, che mette a rischio il retugio stesso. La linea taglia a fuoco, che sta sempre facendo affanne, salendo verso di noi, e con la polizia di tutta quest'area e della strada di accesso che sale verso il territorio elevato. Ma questo volo non vede scaricato? Eh! Ho dovuto riportare il posto e la faccio vedere come si scarca. Stamattina al lavoro qui sul Colle delle Marche, come stai procedendo? Praticamente noi siamo saliti questa mattina alle 8 circa, già abbiamo trovato alcuni gruppi di privati che sono venuti a caricarsi le varie piante secche, le cadute a causa della slavina di questo inverno. Ora noi ci stiamo occupando della parte più prossima al Colle delle Vacche, sperando di prevenire un eventuale arrivo di incendio. Ecco, questo è il nostro operato finora. In questo momento siamo circa una trentina. Sappiamo che dai dati che noi abbiamo giù al palazzo comunale i numeri si aggirano intorno ai 40-45, più i membri della protezione civile, quindi pensiamo che durante la giornata arriveranno anche altre persone sicuramente. Grazie a tutti.